Ciao, mi chiamo Angelo Pruvado, ho 17 anni, abito a Campalto e sono sempre vissuto qua in Italia. Mi piace giocare a basket, praticavo basket e basta. Ciao, mi chiamo Francis Raul Castromero, ho 23 anni, abito a Treviso e gioco a basket. Mi chiamo Filippo, sono di Parma e ho 17 anni e gioco a basket. Mi chiamo Andrea, sono di Abano e mi piace giocare a videogiochi. Ciao, sono Mark Anthony, ho 21 anni, sono uno sedente universitario e gioco a basket. Ciao, sono Daniel, ho 20 anni e abito a Treviso e gioco a basket. Grazie.